Avvocato Meo, lei ha presentato due interpelli al Sindaco per parlare di che cosa? Due interpelli che saranno discussi in Consiglio Comunale, uno riguarda la vicenda della Tribuna dello Stadio e più in generale la progettualità dell'antica Croton e l'altro la meritoria iniziativa assunta dalla solita Linda Monte, dalla guastatrice Linda Monte sul mercatino di Piazza Pitagora. L'esigenza di proporre direttamente un interpello e quindi di portare alla discussione in Consiglio Comunale deriva dal fatto che, debbo dirlo, ormai nelle commissioni consigliari del Comune di Crotone di tutto si discute tranne che di quello di cui si dovrebbe discutere. Non si discute per esempio della problematica dello stadio, della progettualità dell'antica Croton ma neppure si discute di bonifica. Noi abbiamo una commissione ambiente che non si è mai riunita sulla bonifica in tre anni, cioè qualcosa di veramente incredibile, perciò ho ritenuto di dovermi a questo punto rivolgere direttamente al Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la bonifica, lei mette in evidenza che c'è necessità di parlarne in Consiglio Comunale? È stato convocato un Consiglio Comunale i primi di maggio e un Consiglio Comunale nel quale avremo anche la presenza del generale Enrico, molto importante io ritengo. è stato richiesto da una minoranza di Consigli Comunali ma non può che essere condivisa questa iniziativa da tutti i cittadini. Quindi io consiglio, anzi veramente invoco, la partecipazione popolare a questo Consiglio Comunale, la massima attenzione, la massima vigilanza su quanto sta accadendo perché ne va di mezzo alla nostra salute. Quando si parla di problemi come quelli della bonifica, secondo lei il Consiglio Comunale sarà unito nelle scelte che si dovranno fare insieme al Commissario Enrico, alla Regione, tutti? Ma io credo che il Consiglio Comunale, stante poi la pressione popolare che si sta generando, non potrà che essere coerente con le sue precedenti determinazioni. Vi sarebbero delle iniziative però che andrebbero prese, più che dal Consiglio Comunale e dall'amministrazione, ad esempio avuto riguardo a quella che è una delega sul danno ambientale, per esempio, che andrebbe azionata nei modi previsti, che attualmente delega, che giace lì, ma che non ha avuto alcun tipo di efficacia in questi tre anni. Il rapporto con l'ENI deve essere un rapporto chiaro, quindi? Bisogna che l'ENI mantenga tutto ciò che ha sottoscritto e soprattutto che restituisca a questa nostra terra la possibilità di una qualità di vita migliore? Ma diciamo che l'ENI è stata già abbastanza graziata in questi tre anni, visto il Consiglio Comunale che ha ottenuto il rinnovo di una convenzione, mettendo una croce su quelle che erano state le battaglie, che partite dal professor Tallarico erano state poi proseguite dal professor senatore e quindi poi erano state definite con un atto di convenzione a firma del sindaco Vallone. Ebbene, l'ENI è stato già sufficientemente graziato. Sì, l'ENI deve effettivamente farsi carico delle sue responsabilità in questo territorio, che sono responsabilità pesanti.